Ultimo atto per il cinema San Marco che chiude definitivamente i battenti e l'ennesima serranda abbassata nell'universo culturale cittadino sempre più desolato e con esso vanno via anche quei luoghi fisici che hanno accompagnato generazioni di beneventani e di sanniti ma l'estremo saluto a quest'ennesima istituzione che saluta la città così come anticipato in questi giorni da otto pagine non passerà inosservato. L'associazione La Banda, la cooperativa sociale EFATAN e La Banda del Bucò hanno organizzato per sabato 17 gennaio alle 19 un presidio presso il cinema Teatro San Marco. L'obiettivo spiegano gli organizzatori e celebrare insieme la cultura di questa città e chiunque voglia esprimersi con la propria arte sarà libero di farlo. Senza alcune intenzioni di organizzare un funerale né tantomeno una passerella quanto piuttosto con la volontà e l'impegno per incontrarsi e prendere posizione contro l'impoverimento sociale e culturale di Benevento.